Siamo nella tappa... Un attimo, che spingo la musica, un attimo... Arriviamo, arriviamo, avete ragione. Pronto? Adesso la moglie? Molto bene. Buonasera, dicevo, benvenuti. Questa è la tappa del Festival Biblico Lino Vicenza. È un itinerario che viene iniziato il 5 maggio, che ha visto essere protagonista di diverse città, tra cui Padova, Verona, Vicenza, per l'appunto, Vittorio Veneto, Previzio e Rovido. E siamo qui per concludere questa prima batteria di eventi live che si realizza nel 5 e il 29 marzo. L'incontro di questa sera, Scenari, C'è posto per la pace, è stato, peraltro come gli altri, pensato nel V-Pub. È pensato proprio insieme ai due ospiti di stasera, Dario Fabri e la fratella Vido Dotti. Quando insieme ci siamo chiesti, ma qual è il significato della pace? Qual è il significato per il Vangelo della pace? Qual è il significato per i paesi, per le nazioni della pace? Ed è in realtà anche di questo che poterò parlare, in virtù poi di come è mutato il contesto storico, sociale, che siamo tutti qui adicati. Prima, però, vorrei chiamare qui a mio fianco, Gianfranco Sassio, che è il Presidente di Banca Terre Venete, che è una realtà nostra sostenibile, però già da qualche tempo, e che in particolare ha voluto sostenere proprio questo appuntamento. Tra l'altro, Presidente. Grazie, direttore. È aperto, si sente? Grazie, grazie, complimenti intanto, perché in questo itinerante ci fate scoprire le meraviglie di Vicenza. Bellissimo, grazie veramente. Grazie a tutti voi per partecipare a questi eventi che riuniscono anche, che si fanno ripartire con ottimismo. Vi porto il saluto di Banca delle Terre Venete, che è una banca del territorio, una banca che è nata con la fusione di Cassa Rurale Artigiana di Brendola e di Credito Tredigiano. Ma è una banca di credito cooperativo, è una banca che ha i suoi principi ispiratori anche quello di migliorare le condizioni economiche, le culturali, delle persone e soprattutto di orientarsi verso lo sviluppo sostenibile del territorio. E questo, questi interventi che si fa sul territorio vengono poi riportati tutti con azioni concrete e li trovate se passate in una delle nostre filiali prendi un pianto sociale dove troverete gli interventi su sociale, gli interventi culturali, gli interventi per i giovani, gli interventi per la gente, i crowdfunding che facciamo per il terzo settore. Complessivamente nel 2021 abbiamo fatto circa 500 interventi. Ma dovete pensare che una banca interprovinciale della provincia di Vicenza e di Tredigio ha 450 interdipendenti, 60 filiali e 14.000 soci, quindi una banca che non può che essere sul territorio, perché i soci sono proprio le persone del territorio. Però per poter devolvere questo valore sociale deve fare anche il semestriere, deve fare la banca, deve produrre il valore economico. Il nostro piano aziendale, per i prossimi anni, prevede dedicare la ricartenza, questa ricartenza che, ahimè, è rallentata, lo sappiamo tutti molto bene perché, e poi sta lavorando per creare il futuro, il futuro della banca, il futuro dei nostri giovani e quindi il tema che è per tutti noi centrale, è quello della sostenibilità. Siamo all'interno di Agenda Vicenza, stiamo anche riportando le nostre esperienze come Banca delle Spadre Venete è azienda sostenibile, quindi vuol dire che crea valore questi coders, per tutti i dipendenti, i giorni, e come sta proiettando il suo futuro, verso le superfici della sostenibilità, dell'innovazione, delle nuove generazioni. Ecco, questo è il nostro grande obiettivo strategico e, ovviamente, assieme a questo, noi dobbiamo sostenere l'economia reale, sostenere le imprese, perché dalle imprese che vengono fuori lavoro, dal lavoro che poi vengono avanti, sostanzialmente le famiglie. Famiglie che a noi sono molto care, sono molto care perché sono le famiglie che stanno capolando, in questi casi naturali, oggi diventate banche, per tutti i dipendenti e per le famiglie, per tutti i dipendenti e per le famiglie, per tutti i dipendenti e per tutti i dipendenti, tra voi ci sarà anche qualche socio, grazie per l'attenzione che vorrete dare al nostro bilancio sociale, per il territorio, e veramente ovvio per questa serata, che sarà piacevolissima, e per tutti i dipendenti e anche per il terzo. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Allora cominciamo, mettiamo a salire più sul pochi, maffiassiti, costante a scocci, e a parte dei prodotti, e alle mie spalle, direi collegato, da nei padri. Grazie. Grazie a tutti. Io non ho un audio suo che mi arriva. È un festival vivito, che è un festival vivito, che è un festival vivito, e se dovete sapere, se dovete andare a fare, se dovete sentire un microfono, se dovete sentire un microfono, se dovete sentire un microfono, se dovete sentire un microfono. Allora, ok, adesso qua si va attivato. Intanto che si vengono le metate, quindi si intanto vai... Adesso dovrebbe averlo attivato. Eccomi qui. Ok. Siamo tutti allora. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi per essere qua. per il tema di questi incontri di questi giorni è la vocalista e non so se abbiamo già l'alcana a interpretarlo come leggere e dire il presente di questi giorni di questi giorni noi siamo venuti a sceglierci e capire insieme se in questi tempi che stanno vivendo effettivamente è già costo per la pace l'incontro è già è stato pensato a gennaio da gennaio a oggi queste cose sono cambiate è già per questo motivo che da le fabbriche non presenta più troppo non può essere l'avete visto forse qualche ora fa non ha le dissi fa ancora però è stato un nuovo in quel legamento e appunto siamo qui con fratello Guido Dotti che dal 72 è membro della comunità monastica di Bose dove svolge la funzione di economo e lavora anche alle edizioni Kikajon in particolare ha curato il diario di Dag Amarskjold tracce di cammino Amarskjold era un diplomatico svedese è stato anche segretario generale dell'ONU dal 53 al 61 e ha curato anche il saggio di Thomas Merton la pace nell'era post cristiana fratello Dotti è stato anche obiettore di coscienza e questo insomma penso che uscirà nella nostra conversazione anche è importante sapere il background di chi ci parla questa sera Dario invece Dario Fabri è analista geopolitico è direttore di Domino che è la nuova rivista mensile sul mondo che cambia che è edita anche da Enrico Mentana e Domino è uno strumento di geopolitica che è pensato soprattutto per trascendere la cronaca e cercare di capire quali sono le cause profonde diciamo e dei fatti e quali possono essere gli effetti che questi fatti queste concause hanno sul futuro quindi con Dario questa sera proviamo a capire che posto ha la pace nei nostri tempi presenti ma anche quali potrebbero essere gli scenari futuri che ci aspettano quindi io partirei se siete d'accordo da una riflessione cioè quando si parla di guerre di pace si pensa che pensate la guerra ha tanti nomi c'è la guerra simmetrica c'è la guerra fredda c'è la guerra di posizione c'è la guerra per procura la proxy war ma quando si parla di pace generalmente la pace sembra essere solo una e però probabilmente non è così quindi io partirei intanto da fratello se ci puoi dire qual è la tua definizione di pace ma credo che effettivamente volendo ci sono anche tante paci solo che siamo meno abituati a declinarla la mia idea di pace si si avvicina a quella della tradizione giudaico-cristiana dello shalom come vita piena assenza di guerra sì ma anche benessere armonia di relazioni pacificazione interiore se la devo declinare in modo più laico gli aggiungo almeno un aggettivo è che la pace deve essere giusta e poi eventualmente vediamo che cosa vuol dire almeno per me è il fatto che sia nella tradizione c'è anche la pace deserto di chi crea il deserto e poi lo chiama pace ci sono alcune declinazioni per me è questa una vita in pienezza in comunione in armonia con il creato e con le altre persone dopo torniamo sul concetto di pace giusta però vorrei chiedere invece a Dario qual è cioè in quanto analista appunto geopolitico e invece qual è la concezione di pace soprattutto se si pensa da un punto di vista diciamo degli stati più che di pace vista da un punto di vista personale individuale ecco buonasera a tutti grazie Costanza per l'introduzione grazie agli organizzatori per l'invito purtroppo questo è il secondo anno che non riesco ad essere ad essere lì di persona per cause differenti insomma mi auguro se saranno così gentili e pazienti da invitarmi anche il prossimo anno di partecipare dal vivo come si diceva una volta più che volentieri per rispondere alla tua domanda che cos'è la pace ma insomma sai poi la pace degli stati è già un argomento estremamente complesso aleatorio di per sé difficilissimo stabilire che cosa sia di per sé di per sé la pace partiamo proprio dalla Russia ad esempio le lingue slave il russo in particolare sono l'unico caso certamente tra quelle indoeuropee in cui il termine mondo e il termine pace sono la stessa identica parola si pronunciano allo stesso modo mir e mir hanno la medesima origine proto-indoeuropea che poi è la medesima origine del nostro aggettivo mite o del sostantivo mitezza quindi mit mir sono lo stesso termine del proto-indoeuropeo quindi paradossalmente o neppure tanto l'idea che si ha nella mentalità russa e nella mentalità di molti paesi slavi è che il mondo sia allo stesso tempo mite proprio perché visto da lontano la pace che è una forma di mitezza a livello etimologico almeno in russo da noi è diverso l'etimo latino di pace è essenzialmente un contrarre un contrarre un patto a raggiungerlo in quanto tale però Pax poi in senso romano non era la pace come ne intendiamo noi la Pax in senso romano era la superiorità di una potenza su tutte le altre che dunque metteva al bando la violenza perché ne era l'unica monopolista cioè l'unica potenza che poteva esercitare violenza e dunque fare la guerra era la potenza superiore a cui gli altri dovevano adeguarsi quindi la pace in senso romano era l'assenza di violenza nello spazio egemonico perché le guerre non erano più possibili per volontà dell'egemone e dunque di Roma questo senso di Pax romana poi si è trasferita soprattutto in occidente ma non solo ed è diventato il calco il canone principale della pace geopolitica della pace strategica per questo si indica attraverso il termine Pax si indica una fase specifica in cui a dominare è una specifica potenza c'è stata la Pax romana c'è stata la Pax germanica c'è stata quella britannica oggi c'è quella americana qualcuno immagina per il futuro la Pax sinica eccetera eccetera dunque la pace intesa come tale a livello strategico non è l'assenza di conflitto adesso non voglio entrare nel campo altrui per carità ma è come se si riconoscesse in geopolitica una sorta di fisiologica inclinazione ai noi questo non è certamente un motivo di di rallegramento nelle collettività e dunque negli esseri umani al al conflitto stesso cioè a farsi la guerra in senso macro in senso allargato così come a volte noi tendiamo a sottovalutarlo a dimenticarlo le nazioni sono composte soltanto ed esclusivamente da esseri umani dentro non c'è nient'altro noi a volte pretendiamo dalle nazioni ciò che purtroppo da un essere umano non possiamo pretendere cioè che siano sempre rette morali possibilmente non moraliste ma morali sì senza debiti ricche affascinanti seducenti efficienti giuste eccetera eccetera accoglienti nei confronti dell'altro generose colte tutto ciò che una nazione non può essere in ogni momento come nessuno di noi lo è sempre anche noi viviamo nel conflitto quindi è come se fossi inestirpabile in geopolitica il conflitto perché appare inestirpabile dagli uomini infatti tu parlavi di monopolio dell'utilizzo della forza che chiaramente è una prerogativa degli stati o per lo meno degli stati in azione per quello che noi possiamo conoscere dalla pace di Vesfaglia quindi avete visto due definizioni di pace completamente diverse direi non opposte quasi forse forse complementari in un qualche modo appunto si parlava monopolio dell'utilizzo della forza e invece una pace più legata a un'etica a una morale tu parlavi di una pace giusta cosa intendi in questo caso per pace giusta e come questa pace giusta si può in un qualche modo integrare o se è possibile integrarla alla pace di cui parlava Dario credo che sia un po' un ossimoro dire pace giusta nel senso che trovo complementare a quello che pensavo io quanto appena sostenuto Dario sulla ineliminabilità dei conflitti sia dei conflitti interiori che ciascuno di noi vive dei conflitti tra persone e quindi a maggior ragione dei conflitti tra nazioni tra l'altro poi anche il concetto stesso di nazione è relativamente recente e molto successivo alla conflittualità umana anche organizzata per pace giusta appunto io penso a quell'utopia in cui una situazione di di sedazione del conflitto di compaginazione del conflitto di armonizzazione avviene attraverso delle modalità eticamente sane che contrastano la nostra conflittualità naturale quindi non ho presente degli esempi per cui posso dire quella pace giusta mentre la pace come controllo da parte della potenza più forte di questa siamo pieni di esempi ecco faceva l'esempio della Pax americana di una potenziale Pax sinica però adesso siamo in una fase di transizione nel senso che la Pax americana o almeno la potenza americana sembra essere in declino comunque in ritiro in un qualche modo e forse questo si si vede anche nella modalità di confronto si pensa al ritiro dell'Afghanistan si pensa alla magari all'impio di armi in Ucraina ma alla decisione di non entrare in conflitto diretto una gestione del conflitto indopacifico che comunque è più giocato sulla difesa di Taiwan ma forse non su un eventuale intervento militare e poi appunto questa Pax sinica che potrebbe arrivare però nel passaggio da una Pax all'altra adesso ci ritroviamo invece in una congiuntura particolare per lo meno in Europa e tu Dario prima facevi riferimento alla pace a Mir quindi al mondo e alla pace in russo se non sbaglio stavo pensando in questo momento quando si pensa al concetto di pace ad esempio l'Italia in questo momento è un paese in pace o è un paese in guerra se pensiamo all'Ucraina l'Ucraina è in guerra la Russia è in guerra lo Yemen è in guerra la Syria è in guerra noi però stiamo inviando armi in Ucraina in questo momento non stiamo inviando uomini ma stiamo inviando armi la Nato si sta effettivamente allargando abbiamo la Svezia e la Finlandia che di fatto hanno già ufficializzato la loro procedura per poter entrare aspettiamo il consenso della Turchia quindi come possiamo considerarci noi in questo momento anche noi siamo in transizione in un certo senso o no? no esattamente come dici tu peraltro noi siamo in guerra a tutti gli effetti poi non amiamo raccontarcelo ma la Russia ad esempio ci considera proprio da da protocollo un paese ostile ed è per questo che applica il Cremlino ai paesi ostili il pagamento obbligatorio in rubli dei suoi idrocarburi così come il Ministero degli Esteri di Mosca ci ha reso cobelligeranti cioè ci considera cobelligeranti perché noi è vero che inviamo armi è difficilissimo stabilire quale percentuale delle armi utilizzate adesso in Ucraina provenga dall'Italia cioè che dice torna al 5% ma sono stime davvero quasi impossibili da verificare visto che gli americani direbbero è classified cioè anche l'invio dei nostri armamenti è un segreto di Stato nella sua quantità capita nel senso in guerra questa è la normalità ma proprio questo è il punto che non inviamo soltanto armi noi forniamo anche intelligence quindi informazioni in tempo reale sul campo di battaglia all'Ucraina senza alcun dubbio difficile sapere se noi abbiamo addestrato se qualcuno dei nostri addestratori dentro lo schema della Nato abbia addestrato militari ucraini ma non è per niente impossibile diciamo così così come ci sono non inviati dal nostro governo dei volontari italiani senza dubbio che combattono da quelle parti sia nelle fila ucraine in larga parte sia in quelle russe il nostro paese non ama dirselo è anche una nostra tendenza un po' perché ci spaventa perdere l'ordinaria amministrazione questo spaventa tutti guardate anche la Russia non la definisce guerra l'invasione l'aggressione che sta attuando ai danni dell'Ucraina a figurarsi ma noi anche ai tempi del Kosovo o dei bombardamenti del 1999 in cui l'Italia bombardò la Serbia e lo fece con aerei senza mostrine senza insegne perché ufficialmente noi non ce l'avamo eppure adesso siamo in guerra cioè essere cobelligeranti la guerra si fa mai da soli la percezione della guerra dipende anche dal nostro nemico e il nostro nemico ha detto chiaramente che ci percepisce come paese ostile in guerra contro di sé ha anche detto che qualora vi fossero convogli in territorio ucraino gli armamenti in cui ci fossero anche italiani non sappiamo se questo avvenga la Russia li considererebbe un obiettivo legittimo quindi se un paese che è in guerra come la Russia ci considera in guerra lo siamo è come dire io non ho niente contro di te ma se tu hai molto contro di me è evidente che io sono in un conflitto con te e allo stesso tempo noi inviamo armi inviamo intelligence anzi partecipiamo con i nostri con un aerospi almeno da quelle parti dell'inviare intelligence quindi siamo un paese in guerra concludo dicendo essere in guerra significa tante cose ma il primo passaggio è averne consapevolezza del nostro dibattito pubblico correggetemi se mi sbaglio non mi pare nessuno si considera in guerra realmente qualcosa che ci appare comunque lontana sebbene sul continente sebbene sul continente europeo non c'è di più l'Italia si è offerta questo è stato confermato dal governo di Kiev come paese per il futuro chissà quando finirà la guerra come paese garante della prossima neutralità ucraina adesso che significa in concreto non si sa ma in linea teorica vuol dire che se la Russia che soltanto la Russia può essere domani al termine della guerra con l'Ucraina neutrale invadesse o attaccasse nuovamente il paese noi dovremmo in quel caso intervenire militarmente in difesa dell'Ucraina in quanto garanti della sua neutralità ecco anche di questo a me pare che in Italia non si dibatta per niente eppure se penso all'inizio del 2020 quando in guerra noi eravamo il linguaggio della guerra veniva utilizzato invece per descrivere quello che ci stava succedendo durante la pandemia e questo secondo me è estremamente interessante perché Far del Dotti ha anche scritto un blog molto interessante rispetto al linguaggio della guerra che viene utilizzato nel nostro paese e al posto di un linguaggio della cura questo come ha contribuito secondo te a polarizzare il dibattito pubblico pubblico in Italia prima rispetto alla pandemia e poi come questa polarizzazione dalla pandemia da un punto proprio di vista di linguaggio si è poi trasferita nel dibattito su questa guerra sì all'inizio della pandemia ero rimasto davvero colpito dal fatto che tutta la retorica il paradigma del linguaggio usato era tutto in guerra si era in trincea i medici erano in prima linea e questo ben prima che arrivasse un generale a organizzare l'affrontamento la lotta contro il virus e mi chiedevo come questo fosse stato mi sembrava che questo fosse una sorta di catalizzarsi di un linguaggio che effettivamente è molto spesso prende molto spesso la metafora della guerra a tutti i livelli da quello sportivo a quello appunto medico e avevo scritto una questo tipo di riflessione dicendo non siamo in guerra siamo siamo in cura credo che adesso dovrei riscriverlo dicendo siamo in guerra e dobbiamo ancora di più essere in cura perché credo che sì possiamo appunto far finta di far finta di nulla ma in guerra ci siamo dalla dall'invio delle armi e dall'uso dell'intelligence dalla decisione di aumentare le spese militari dall'ipotesi di un esercito europeo di cui non si capisce quale sarà il Parlamento che ne determinerà la policy quali saranno gli eventuali contrasti tra un esercito europeo gli eserciti nazionali le forze della Nato siamo oggettivamente che lo si voglia ammettere o no in una situazione di guerra certo non abbiamo per ora i bombardamenti sulle nostre città io credo che tra le possibili opere e lavoro di chi ha a cuore la pace sia proprio quello anche di cominciare a demilitarizzare il linguaggio e di usare appunto non ci sono delle armi per la pace ci sono degli strumenti non ci sono dei militanti della pace dei militari per la pace ci sono semmai degli artigiani questo credo che dovremmo imparare a usare d'altronde era quello che Confucio rispose quando gli chiedono gli chiesero se ti danno se ti danno il governo qual è la prima cosa che fai una purificazione del linguaggio e credo che sia importante oggi su anzi su Repubblica c'è Yoram Goodgeld che ha scritto che l'opposizione all'invio delle armi in Ucraina raccoglie consensi perché appare una posizione nobile sto leggendo però che è colpevole di un buonismo utopista e dice che è un inganno queste giustificazioni ufficiali di questo pacifismo sono illogiche e rappresentano un diversivo per celare addirittura argomentazioni complottistiche della stessa matrice dei novax e dei negazionisti dell'olocausto allora su questa frase vorrei sentire sia Dario che Fratellotti vi parirei da Fratellotti nel senso che essendo obiettore di coscienza e pacifista storico mi pare di capire in questi mesi soprattutto ricordo anche intorno al 25 aprile c'è stato un dibattito abbastanza feroce tra sia all'interno del movimento cosiddetto pacifista sia poi chi diceva inviamo armi non inviamo armi blocchiamo la Russia non blocchiamo la Russia e sembrava davvero che una posizione nel mezzo non fosse non fosse possibile quindi vorrei sentire Fratellotti e poi chiaramente anche cosa ne pensa Dario ma sì diciamo che ho cercato di essere un artigiano di pace da prima che pacifista diventasse un insulto continuo a esserlo ogni tanto prendo gli insulti analoghi mi sembra un tantino forzata per così dire in modo gentile la lettura fatta in quanto insomma che chi si sottrae a questa forzata schieramento da una parte o dall'altra che ha ben presente chi si sottrae a questo ha ben presente chi ha la colpa di questo avvio di guerra e della modalità con cui la guerra viene condotta in questo tempo ce l'ha ben presente non ha bisogno di nominarla ogni volta chi ha il potere di governo in Russia ed è Putin e chi lo sostiene ecco io credo che sia importante invece ritrovare una rilettura che tiene conto del fatto che ogni volta che scoppia una guerra si chiede ai pacifisti come fanno a fermarla non si chiede mai a chi scatena la guerra guerreggiata per intenderci adesso che hai fatto uscire il il dentifricio dal tubetto che hai scatenato lì il il mostro il mostro sacro come fai a farlo rientrare nella lampada si chiede ai pacifisti ecco cosa fai adesso tu non gli si chiede mai che cosa hanno fatto e che cosa continuano a fare in questo tempo sia per prevenire la guerra sia per curare chi della guerra è vittima poi torniamo così magari chiediamo anche cosa è stato fatto e cosa state facendo in questo in questo momento anche proprio da un punto di vista di società io passerei a Dario per avere invece diciamo una una un'opinione diversa soprattutto su un piano diverso perché Dario ragiona su un piano geopolitico che appunto si credo che si scontri un po' anche con la con la visione di di Guido Lotti Dario che cosa ci dici rispetto a questo lo ha la possibilità l'opportunità di inviare armi intendi in Ucraina esatto nel senso non la possibilità diciamo lo dicevi tu stesso le armi sono già inviate c'è stato c'è stato questo dibattito in Italia su l'invio e non rivedere le armi che in questo caso sarebbe come dici tu stesso da una parte cioè siamo in guerra c'è una parte dell'Italia che in guerra non ci vuole andare una parte dice a parte l'aiuto di pancia all'Ucraina che da una parte è giusto per aiutare gli ucraini che vengono invasi dalla Russia e tra parentesi questo poi viene fatto per questa cosiddetta guerra giusta considerata guerra giusta visto che poi per le altre di fatto non è stato fatto se penso alla Siria e allo Yemen per fare alcuni esempi però poi anche proprio cioè invece c'è chi dice le armi no perché se maniamo le armi rischiamo poi di entrare in un conflitto in cui poi veniamo tirati dentro anche noi quindi tu che hai una visione approfondita della situazione anche questo invio di armi quanto effettivamente è parte dell'interesse nazionale italiano in questo caso per poter spiegare anche pace o non pace questo è proprio il punto in questa costanza hai toccato veramente il punto perché il dibattito sull'invio delle armi verso l'Ucraina spesso tocca dimensioni anche molto nobili intendiamoci quella morale qualcuna un po' meno nobile molto utilitaristica cioè c'è nel fronte di chi non vuole inviare le armi non è certo il caso di questa sera ma tra chi invece non lo fa per ragioni morali eccetera c'è chi crede che in questo modo senziamente tutto finisca molto velocemente cioè lasciamo vincere la Russia e torniamo all'ordinaria amministrazione l'ordinaria amministrazione ed è la tragedia della vita non si può recuperare non c'è verso tornare allo status ex ante non è possibile anche volendo una guerra come questa con il massimo rispetto di tutte le guerre a cui abbiamo assistito alcune le citavi anche tu Costanza una guerra troppo più importante perché è una guerra che avviene nel continente più importante del mondo perché è una guerra che vede impegnata la terza potenza del pianeta che comunque è il paese più esteso del mondo che ha l'arsenale atomico più grande del mondo e potremmo proseguire che fino a ieri era una superpotenza globale che ha un'idea imperiale di sé smarginata eccetera 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 non si può tornare con queste dimensioni allo ciò che era prima è impossibile sempre con il rispetto perché le guerre uccidono le persone ovunque non è che sono diversi i morti che capitano dove la questione più importante delle guerre ad esempio dimenticate per carità nessuno è così stolto da suggerirlo però altrettanto è vero che gli effetti che ha una guerra così importante su tutti quanti sono superiori di altri e indietro non si può tornare allora l'idea molto utilitaristica un po' miope tanto non c'è niente da fare la Russia si prende il Donbass o quello che vuole e poi torniamo a ciò che era prima e come se fosse stato un incubo torniamo a discutere chissà di che cosa non è possibile è una visione estremamente opportunistica della realtà che soprattutto non aderisce alla realtà e allora il punto qual è è quello che toccavi tu questo dibattito manca sempre la domanda dal momento che il conflitto esiste non si può tornare indietro non è un incubo e la realtà che cosa conviene all'Italia cioè alla nostra collettività cioè a noi in maniera ancora più semplice conviene che la Russia si mangi l'Ucraina è nel nostro interesse lasciamo perdere come vedete non si può fare ma per caso come se fosse lo stato di natura nelle esercitazioni filosofiche togliamola chiaramente sul piano morale già pasterebbe ma lo togliamo all'Italia conviene che la Russia si prenda tutta l'Ucraina conviene che la Russia si prenda metà dell'Ucraina cioè che cosa ci conviene io credo che nel nostro interesse nazionale che la Russia non si prenda tutta l'Ucraina per il semplice motivo che una Russia che stravincesse la guerra e arrivasse in Galizia per intenderci cioè ai confini della Polonia sarebbe senza alcun dubbio un paese molto più potente di adesso con un'idea di sé ancora superiore difficilissimo se non impossibile da ricacciare indietro visto che armato fine ai denti sul piano nucleare e che è arrivato a quel punto specialmente a fronte di paesi europei imbelli prendiamoci chiaramente non abituati che vivono in una condizione post-storica molto diversa da quella dei russi non più inclini al sacrificio non più inclini a sopportare nessuna restrizione peati noi davanti ad un paese così che si allarga e arriva a limitare dell'attuale confino ucraino vuol dire che uno armato che è disposto a fare la guerra che è più violento che sopporti i sacrifici meglio di noi anche perché non ha nessuna nostalgia di un benessere che non ha mai conosciuto e che invece noi conosciamo vuol dire che si piazza lì e ci impone come un ricatto le sue le sue pretese le sue richieste anche solo per questo rallentare o impedire che la Russia si prenda l'Ucraina è per noi un interesse importante ultimissimo spesso ti discute del trasferimento delle armi come se fosse una nostra imposizione agli ucraini cioè noi si sente dire anche questo in questo modo li mandiamo a morire quasi inutilmente come se noi fossimo presentati lì e non le volevano gliel'abbiamo messi letteralmente in mano queste armi abbiamo detto vai e combatti una buona parte una grossa parte dell'openone pubblica ucraina dunque della popolazione ucraina ci chiede un aiuto per resistere nel senso che è molto complicata la situazione ma più della metà degli ucraini hanno una visione totalmente di spalle alla Russia un 40% della popolazione è molto indecisa oggettivamente ma questa guerra la sta allontanando drammaticamente da Mosca ma adesso lasciamo da parte ciò che conta è che la maggioranza della popolazione ci chiede un aiuto militare e anche soltanto per questo se peraltro nel nostro interesse visto che la guerra esiste e non è un incubo e non l'abbiamo creata noi non possiamo nemmeno permettere che la vinca chi non solo ha aggredito un altro paese ma qualora la vincesse non sarebbe nemmeno nel nostro interesse una cosa più diciamo nello specifico poi passerei anche a Guido Dotti però tu parlavi di effetti sull'Italia quelli che hai descritto adesso sono chiaramente effetti sull'Italia sull'Europa ma sarebbe diciamo lo stesso che potrebbe dire Washington cioè nel senso è l'allargamento della Russia verso i confini europei verso la Polonia motivo per cui già diciamo da quando è stata annessa alla Crimea dal 2014 la Nato su spinta degli Stati Uniti si è premurata di raggruppare tutti i gruppi paramilitari creare forze di difesa territoriali fare operazioni anaconda in Polonia poi in Finlandia in Svezia le stesse forze di difesa territoriali che oggi in Ucraina combattono però appunto mi chiedo proprio per noi stasera qui se devo pensare in maniera pratica non so sullo scacchiere giustamente geopolitico che è il tuo competenza ma se penso anche per l'Italia quale sarebbe la diretta conseguenza di un'Ucraina che cade oppure anche di un'Ucraina tagliata a metà come sembra per ora configurarsi la situazione cioè l'intensificazione della guerra nel Donbass i russi che si prendono tutto l'est lo sbocco sul Mar Dazzo lo sbocco sul Mar Nero si arriva magari a un punto in cui si cercano di negoziare una divisione tra est e ovest noi come cioè qual è l'effetto sull'Italia oltre che economico che abbiamo lo stiamo già pagando con le nostre bollette dico proprio da un punto di vista si è chiaro politico beh innanzitutto ci sarebbe un lento avvicinamento alla nostra penisola neppure troppo lento i russi già confinano con noi Libia l'Italia e Libia vive su uno strapuntino gestito dai turchi e dai catarini in Tripolitania i russi sono in Cirenaica cioè proprio confiniamo con loro già confiniamo anche con i turchi non è esattamente un bel vivere ma non lo è neppure con i russi la Russia che da una dimostrazione di forza che lo sta dando in questo momento e arrivasse nel centro del continente prendendosi l'Ucraina intera oggi è un'opzione che non è possibile proprio non è possibile perché proprio per quello che raccontavi anche tu perché l'organizzazione da parte della Nato dell'esercito locale delle milizie locali per gli armamenti leggeri e pesanti che sono stati forniti in maniera massiccia straordinariamente massiccia gli Stati Uniti hanno speso più di 20 miliardi di dollari in questi mesi una cifra da perdere la testa se tutto questo non ci fosse stato la Russia si fosse presa l'Ucraina fosse arrivata velocemente al centro del continente le questioni fra stati funzionano così cioè uno arriva lì ti punta il fucile che cosa ti può chiedere allora se non ci date questo noi rompiamo le scatole o invadiamo o comunque minacciamo la guerra altrove che cosa ad esempio che cosa ci può essere chiesto moltissime cose ad esempio imporre il proprio prezzo sugli idrocarburi imporre il fatto di poterli comprare soltanto da loro o ancora imporre ciò che vogliono in Libia la Libia per tra parentesi è il paese più strategico che esista al mondo per l'Italia insieme alla Francia e all'Albania più o meno o a ciò che resta dei Balcani quindi non esattamente un dossier minore oppure potrebbero imporre alcuni movimenti quindi la navigazione in una parte del Mediterraneo specie quella orientale così conseguenze proprio dirette su di noi quindi noi un ambito di manovra ancora più ristretto senza contare il fatto che i rapporti tra la Russia e i paesi circostanti a quel punto sarebbero complicatissimi e noi potremmo essere chiamati in quanto NATO attraverso l'articolo 5 a fare direttamente la guerra non più indirettamente oppure essere posti proprio come diaframma tra la Polonia con alcune nostre truppe tra la Polonia e la Russia davanti la Galizia proprio in nome dell'articolo 5 della NATO in caso di attacco o di schermagli al confine quindi effetti estremamente diretti sulla nostra vita che come tutto ciò che riguarda la geopolitica sono la concretezza massima cioè tutto ciò che riguarda la vita diretta delle persone che non vedono immediatamente ma che poi le viene a cercare nel momento in cui i fatti accadono grazie mille Dario infatti vorrei chiedere invece a Guido Dotti Dario parlava dell'articolo 5 cioè del trattato di sicurezza collettiva che appunto prevede che un membro della NATO che viene attaccato deve essere soccorso da tutti gli altri membri dell'alleanza atlantica questo articolo 5 soprattutto pensando a un potenziale ormai quasi dato di fatto allargamento della della NATO se dovesse essere dico così buttato giù un aereo qualsiasi aereo NATO sul confine e dovesse essere visto come atto bellico perché a un certo punto magari scoppia da qualche parte o perché c'è l'interesse a un certo punto di intervenire quello che sarebbe cioè noi saremmo proprio trascinati dentro la guerra in maniera definitiva irrevocabile molto più di un impegno molto maggiore rispetto a quello in cui siamo già implicati adesso rispetto allo scenario che ci descrive Dario tu parlavi di artigiani della pace lei anche in altre occasioni li hai paragonati anzi hai fatto e hai messi in poli opposti gli artigiani della pace che fanno un lavoro quotidiano certosino per creare lo spazio contro un'industria bellica che di fatto è proprio un'industria che spazio questo tipo di pace artigianale si può creare in un contesto che così descritto come scrive Dario sembra molto rigido sì giustamente è estremamente rigido l'articolo 5 è già stato tirato è già stato utilizzato per l'Afghanistan perché si è considerato come attacco agli Stati Uniti gli attentati elettori gemelli e quindi l'implicazione hanno invocato l'implicazione nella guerra in Afghanistan implicava derivava anche dall'articolo 5 della Nato credo che lì si misuri proprio lo scontrarsi tra quello che al cuore delle stesse motivazioni della guerra e delle stesse implicazioni che la guerra è ricaduta e che la guerra ha cioè implicazioni molto concrete e dirette sulla vita delle persone e l'altrettanta immediatezza e attenzione alla vita delle persone che viene da quelli che cercano di operare la pace indipendentemente dal fatto che si sia in guerra o non in guerra io facevo la metafora chiaramente degli artigiani di pace rispetto all'industria diciamo alla catena di montaggio della guerra perché sarebbe anche tutto da da approfondire tutta la tematica delle industrie militari e di quali armi mandiamo insomma vabbè di quali rifornimenti è un punto importante ma non è giustamente che sembra necessario sì 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 che poi questo è anche discutibile poi chiaramente si apre tutto un capitolo anche su un certo tipo di interesse di determinate industrie che sostengono ma dicevo il lavoro dell'artigiano perché prendevo questa metafora perché è un mestiere quello dell'artigiano pensate dal calzolaio al diutaio che si impara a bottega non normalmente da un altro artigiano con una trasmissione proprio tra persone e che ha al cuore del suo lavoro il pezzo unico anche quando è fatto con lo stampo l'artigiano lo rifinisce sempre pensate al ceramista e che ha cura dell'oggetto e che ha in mente il destinatario dell'oggetto cioè io preparo qualche cosa per te e ti conosco non solo perché sei il committente che mi paghi ma perché poi me ne prenderò cura anche dopo ecco questo mi sembra l'atteggiamento estremamente se volete faticoso soprattutto in tempo di di guerra ma anche in tempo di di non belligeranza armata aperta e consapevole ma penso che sia la sfida di quelli che io considero autentici pacifisti per riprendere la risposta al falso pacifismo dell'articolo che citavi prima ecco certo come sappiamo è più facile produrre in serie che il prodotto artigianale e il singolo pezzo costa meno in serie Dario visto che insomma anche rispetto alla situazione che ci hai descritto in maniera molto chiara e molto lucida e visto che questo incontro stasera si chiede proprio che spazio c'è per la pace alla situazione guardando la situazione attuale pensando perlomeno al medio al medio periodo che spazio c'è per la pace che può essere intesa anche semplicemente come una soluzione forse negoziale sull'Ucraina intendo appunto tra Russia e Ucraina o di conferenza di pace o sappiamo che a un certo punto Zelensky questo era stato scritto nella diversa d'estate che sarebbe stato disposto all'inizio anche a cedere parte del territorio orientale e che poi appunto Washington avesse fatto pressioni per per fare una sorta di all in cioè di non lasciare neanche un centimetro ai russi intanto vorrei capire tu come la vedi no? c'è queste diverse posizioni negoziali quanto possono cronicizzare questo conflitto e poi se c'è una possibilità per la pace o per una pace fredda o per un negoziato all'orizzonte oppure dobbiamo aspettare ancora mesi o forse anni allora intanto partiamo dal senso di un negoziato cioè noi a volte immaginiamo il negoziato come una causa o comunque come un agente degli eventi cioè il negoziato è una scatola vuota cioè il negoziato non è che decide una guerra sarebbe molto bello se fosse vero ma non è così cioè ci si siede nel negoziato quando si ha l'impressione o che la guerra è finita perché le parti una delle due si è arresa una ha vinto oppure le parti convengono che sono ad uno stallo o una potenza superiore interviene e dice dovete smetterla cioè non è che avviene non è che a un certo punto si guardano nelle pupille e si innamorano perdutamente dicono vedi dobbiamo sederci cioè in dire un negoziato in dire una tavola rotonda così è per parlare le parti in questo momento sono entrambe convinte che soltanto la guerra possa decidere il loro futuro è il senso di tutte le guerre è la tragicità della guerra tutti innanzitutto chiunque comincia una guerra in questo caso l'hanno cominciato i russi invadendo aggredendo l'Ucraina chiunque comincia la guerra è convinto che la guerra sarà brevissima perché nessuno entra in una guerra pensando che sarà lunghissima ovviamente poi le cose vanno sempre diversamente quasi sempre per lo meno nel caso specifico la battaglia del Donbass è ciò su cui ci concentrano entrambi gli attori la Russia perché dice adesso io non ho niente su cui trattare perché è convinta di poter strappare più territorio possibile in questa battaglia prendersi tutto il Donbass che è questo bacino carbonifero che oggi più o meno la Russia controlla per due terzi Russia e gli stati fantoccio che sono queste sedicenti repubbliche popolari di Lugansk e Danetsk tanto vuole prendersi il Donbass una regione tutta russofona cioè si parla soltanto russo adesso questa guerra insegna che l'omofonia cioè la medesima lingua non conduce al medesimo sentimento necessariamente cioè non è che questi siano filorussi per forza però comunque c'è un retroterra culturale da quelle parti che li lega ancestralmente perlomeno alla Russia non forse a questa Russia che le ha invasi in bombarda le case uccide le famiglie ma questo è un altro discorso la Russia vuole prendersi tutta questa parte che poi è il cuscinetto perfetto di un cuscinetto legato alla lingua la cultura russa probabilmente molto dipenderà come andrà cioè quanto tempo ci vorrà se la Russia riuscirà a prenderlo tutto e che tutto a dimostrare a quel punto Mosca avrebbe due opzioni o puntare quindi proseguire in quel progetto di Navarassia cioè di nuova Russia che dovrebbe arrivare a Vinat Odessa ma oggi la Russia non ha la capacità di prenderlo d'essa però qualora conquistassi il Donbass potrebbe collassare il fronte ucraino quindi si potrebbe aprire un'autostrada che porta Mikolaiv che è il bastione che difende Odessa e poi Odessa stessa arrivati a quel punto la Russia potrebbe bleffare anche senza capacità di prenderlo d'essa e dire sediamoci al negoziato perché altrimenti è peggio se non noi puntiamo anche quella che è una città sacra perché Odessa è una città sacra per i russi per la loro storia eccetera quindi per rispondere alla tua domanda quale pace è possibile oggi è veramente difficilissimo dirlo perché le parti tutte anche gli ucraini che non hanno colpe che stanno difendendo il loro territorio hanno stabilito che debba essere la battaglia a decidere la pace perché gli ucraini ragionano in questo modo dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto dopo quanto abbiamo subito noi cederemo territorio quando se lo prenderanno cioè cediamo tutto il territorio che i russi ci strappano non ci sediamo al tavolo per concedere loro qualcosa che non si sono presi una situazione drammatica intendiamoci ma le parti adesso sono convinte ripeto e chiudo che debba essere il campo di battaglia soltanto il campo di battaglia a decidere che pace sarà di cui ad oggi non ne hanno alcuna idea quindi nel momento in cui insomma sono i diciamo i cannoni a fare a fare rumore e non il il fruscio dei fogli dei negoziati a questo punto da quello che dice Dario sembrerebbe che la scatola dei negoziati è rimasta una scatola vuota anche se forse magari se continua questa offensiva in Donbass tra qualche mese si potrà vedere un non so forse un avanzamento nei lavori negoziali cioè molto spesso quando c'è un'accelerazione sul campo segue anche magari un un tentativo di patteggiamento non so se questo è il caso in questa in questa guerra in altre lo è stato quindi staremo a vedere quello che mi interessava capire quando si parla di in questo caso di guerra giusta in sostanza no? prima parlavi di pace giusta questa guerra in un qualche modo è stata avvallata come una guerra giusta in parte per le ragioni che dice Dario che sembrano molto oggettive cioè siamo cobelligeranti abbiamo un nemico un nemico che di punti in bianco è diventato il diavolo è diventato il male fino a qualche mese fa abbiamo sempre anzi continuiamo a commerciare perché Eni ha deciso di pagare in rubli quindi noi comunque continuiamo c'è il diavolo ma col diavolo noi parliamo e commerciamo indipendentemente da che faccia abbia e continuiamo a farlo un po' sempre dappertutto dovunque però appunto in questo caso mi piacerebbe capire questo concetto di guerra giusta come la leggi tu oggi c'è una guerra giusta a volte c'è la guerra santa come si potrebbe declinare in questo caso questa guerra giusta innanzitutto secondo te è una guerra giusta? ma io la chiamerei piuttosto una guerra legittima che qualcosa almeno nel mio concetto di guerra giusta è diverso giusto da legittimo e quindi la riconosco perfettamente legittima secondo me non esistono guerre giuste non esistono questo va dal punto di vista della anche della comprensione delle chiese della chiesa cattolica è recentissimo la messa al bando di qualunque guerra come indeclinabile come giusta nemmeno il concilio ha usato spingersi dove si era spinto Papa Giovanni con la pace Minterris che per il primo aveva collegato l'impossibilità di restabilire la giustizia attraverso la guerra tantomeno guerra santa ecco però mi piacerebbe cioè mi piacerebbe credo che gli eventi ci portano a a un'ulteriore considerazione più a livello di ciascuno di noi di persone tu hai detto si è identificato il diavolo anche se poi ci si fanno ancora gli affari o comunque si fa ancora i conti ecco io credo che questo sia la nostra esperienza quotidiana cioè ciascuno di noi non con il diavolo esterno col diavolo dentro di sé lo lo chiama diavolo e poi ci gioca ci fa i conti ci ricava degli interessi nella nostra e qui ritorno a quello che che diceva Dario prima del fatto che le nazioni non si comportano diversamente da come si comportano gli esseri umani all'interno delle nazioni e quindi anche io non vedo non vedo un posto per la pace adesso e non saprei vederlo a breve medio termine vedo che ci sono dei posti in cui alcune persone hanno fatto spazio alla pace e questo anche all'interno della Russia mi piacerebbe non dimenticarli questa sera le persone che non contano nulla dal punto di vista strategico militare geopolitico di ribaltamento delle sorti di accelerazione della fine delle violenze eccetera ma testimoniano una non disponibilità ad accettare questa modalità di rapporto tra le persone ci sono all'interno della chiesa ma anche all'interno della società sia in Russia che in Ucraina queste persone sono delle infime minoranze ne siamo coscienti con alcuni di loro io ho un rapporto personale da più di vent'anni quindi sento di sento di essere di dover essere anche grato a loro perché perché sì non fanno nulla non spostano di una virgola l'evolversi degli eventi ma possono dirci che anche nella nostra vita di persone che volenti o nolenti siamo in guerra possiamo fare spazio alla pace in questo caso anche nel caso diciamo dell'opposizione russa oltre al non so se si può chiamare allo scismo all'interno della chiesa ortodossa ma poi anche a livello di proprio opposizione politica ma anche c'è uno spacco generazionale quelli che vengono chiamati i putins cioè quei ragazzi che non guardano la tv hanno i genitori e magari nonni che guardano la tv e che quindi sono molto condizionati nella propaganda della tv di stato invece i ragazzi da fine 25 anni che si informano su telegram o su internet o che hanno un contatto con il mondo esterno molto meno filtrato sono molto più in grado di utilizzare vpn navigare nel dark web parlare su signal dei contact insomma che sono quelli che hanno fatto i bagagli e se ne sono andati oppure che continuano o a provare a manifestare vengono incarcerati addirittura ci sono proprio dissidi all'interno delle famiglie chiaramente non sto parlando di navalni sto parlando di persone nella loro quotidianità normale non sappiamo neanche in che numeri sono però forse anche quando si pensa a dove si può inserire la pace in un contesto così drammatico come sembra come avete descritto entrambi questa sera forse iniziare a individuare queste sfumature cioè parlare di guerra giusta guerra santa di male assoluto forse già come linguaggio come categoria mentale ci allontana nel trovare uno spazio per un compromesso iniziare a pensare che ci sono sfumature diverse gradazioni diciamo di grigio forse può essere un modo per riavvicinarsi io concluderei qui però vi chiederei se dal pubblico ci sono domande lascerei magari dieci minuti un quarto d'ora di spazio per domande dal pubblico non vi vediamo le mani quindi dovreste venire magari davanti se ci sono domande sono atterriti vi abbiamo ucciso va bene non so se Dario vi dovete aggiungere qualcosa beh io prima di aggiungere una piccola cosa ci tenevo a ringraziare Dario e oltre che gli organizzatori perché da ben prima che ci fosse proposto questo dialogo lo seguo regolarmente e ne apprezzo la lettura anche se come avete visto abbiamo dei punti dei punti diciamo che che si intrecciano più che convergere forse una cosa sono quasi agostiniano sul male mettiamola così ecco e io tra i tanti santi agostino uno di quelli chiamo di meno per cui immaginavo immaginavo va bene grazie grazie davvero è stato anche per me un grande piacere forse per chiudere con un accenno forse c'è una domanda c'è una domanda c'è una domanda era solo per dire che Dario ha tratteggiato i rischi e l'eventualità che ci troveremo di fronte a seconda di come va a finire la guerra ecco cominciamo a pensare a ragionare anche a tutte le cose che ci troveremo di fronte anche a dover ricucire per la pace a livello di cultura a livello di scambio a livello di chiese a livello di patrimonio culturale di paesi che e nazioni che saranno l'una contro l'altra l'una che prevarica o ricatta o mette sotto l'altro ma la popolazione la gente vive anche di questa cultura che nei secoli ci siamo scambiati la domanda sì per iniziare grazie a tutti grazie davvero per questo incontro prezioso almeno per me per capire un po' di più di questa contemporaneità che mi sfugge molto e ho una domanda anche rispetto forse all'ultimo intervento rispetto all'impatto che questa cosa avrà anche un po' di lungo andare specificatamente anche sull'aspetto delle sanzioni come strumento anche un po' di contrasto forse non belligerante nel senso armato del termine però evidentemente anche che ha tutta una serie di impatti e mi chiedo questo vostro commento anche rispetto al lungo termine soprattutto sulla cittadinanza russa che forse magari anche è un po' inconsapevole di quello che sta succedendo forse non è così pro o contro tutto quello che accade e quindi come le sanzioni se sono uno strumento che da parte nostra che stiamo usando è effettivamente qualcosa che può incidere su chi la guerra evidentemente la vuole e come se incide su chi invece la guerra non la vuole grazie dare vuoi far tu le sanzioni sì volentieri grazie per la domanda ma e non so quanto la popolazione russa sia inconsapevole io credo che sia un po' un giochino definirla scema cioè come se i russi vivano in una grande bolla cioè la 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 censura in Russia è molto molto spessa ovviamente siamo in un paese dittatoriale non siamo in una democrazia liberale ma questo non vuol dire che la popolazione non sappia che cosa sta succedendo che sono due campi molto diversi cioè i russi e forse questo ce lo nascondiamo un po' perché non lo riusciamo a comprendere il russo medio a volte si dice anche il russo profondo non guarda il mondo in maniera molto diversa da Putin anzi tutt'altro cioè Putin è un prodotto della Russia non è che Putin l'ha creata la Russia nessun singolo crea una popolazione né il prodotto specifico poi ne può ovviamente cavalcare alcuni tratti ma insomma non è che Putin è stato assegnato d'ufficio alla Russia poteva essere poteva essere consegnato al Portogallo per uno scambio di di persona non è finito in Norvegia è finito in Russia cioè non è così quindi la popolazione russa ha un'idea della guerra che è simile a quella di Putin cioè che l'Ucraina non capisce bene se sia uno stato o meno dobbiamo anche metterci nei panni di una mentalità imperiale l'Ucraina è stata sotto la Russia nelle sue varie declinazioni da quella zarista a quella sovietica per almeno tre secoli da 1991 cioè da ieri nella mentalità imperiale ma nemmeno da ieri da questa mattina è un paese indipendente che merita aggiungo io di esserlo ma valla a spiegare al russo profondo che peraltro ha un sentimento nei confronti dell'Ucraina molto particolare quasi patologico che è puro sentimento cioè lo considera il parente che deve stare sotto il suo tallone deve fare tutto ciò che dice il russo se ne infischia totalmente il russo dell'ambizione degli ucraini però quando gli ucraini poi si voltano le spalle e guardano all'Europa ci rimane veramente male genuinamente male si sente tradito cioè non capisce il senso di richiesta di autonomia di libertà che in maniera legittima l'Ucraino ha che c'entra questo con le sanzioni l'imposizione delle sanzioni economiche ad uno specifico paese cioè ad una collettività deve basarsi inevitabilmente sulla comprensione della collettività stessa le sanzioni hanno tra i vari difetti che hanno anche se possiamo capirne l'intento quelle di essere uguali per tutti cioè io applico le sanzioni le posso applicare all'Iraq come all'Iran come che cavolo ne so a chi vi pare a voi come a Gheddafi così anche alla Russia i russi non sono un paese che vive che vivono come viviamo noi cioè non hanno le caratteristiche occidentali tipicamente economicistiche dell'Occidente dicevo in precedenza non hanno nostalgia di un benessere che perdono perché non hanno mai avuto fino in fondo uno degli obiettivi delle sanzioni specialmente applicate alla Russia applicate per come le vorrebbero applicare gli americani quindi embargo totale agli nitrocarburi la Russia è un paese cioè esporta ciò che non produce esporta ciò che estrae una monocultura quasi a parte gli armamenti eccetera l'obiettivo è anche provocare un cambio di regime cioè l'idea attraverso le sanzioni che vanno a mordere un po' gli oligarchi un po' la popolazione o per una congiura di palazzo o per una rivolta di piazza lo fanno fuori fanno fuori ovviamente Putin chiudo dicendo che cosa i russi non giudicano il loro capo dalle condizioni economiche o dai diritti politici che porta perché non li hanno mai conosciuti ma non perché sono scemi o forse sì decidete certo viviamo meglio noi ma questo decidetelo voi perché hanno altre caratteristiche in testa campano di gloria cioè dello status imperiale che ha il loro paese in termini stesso per dire libertà il russo che è slow boda nella sua radice proto-indo-europea quello slow è la stessa radice che genera all'indo-europeo il self britannico il self inglese cioè libertà è uno dei rarissimi casi etimologici in cui la parola libertà in russa ha un senso negativo non esiste in nessun altro paese perché per libertà si intende il caos il centrarsi soltanto su di sé peraltro è la stessa radice quello slow che crea popoli che i romani chiamavano sabini o sanniti hanno la stessa radice perché i romani li consideravano disordine ecco i russi hanno questa idea della libertà il loro leader deve portare ordine quello vuol dire essere liberi nella loro mentalità allora quando è che si ribellano quando è che rovesciano il loro capo e lo ammazzano mediamente quando percepiscono il loro paese umiliato all'esterno se la Russia viene umiliata all'esterno e perde una guerra beh il leader fa una bruttissima fine chiudo ricordando che nel 1905 se si interroga un russo che ha una media conoscenza della storia gli si chiede qual è stata la sconfitta più umiliante dirà immediatamente Tsushima non ci pensa neanche un secondo nel 1905 la flotta giapponese distrugge nello stretto di Corea letteralmente la flotta russa che aveva fatto il peribolo dell'Africa veniva dal Baltico arrivata in un mondo che non conosceva è stata annientata in maniera drammatica è la più grande umiliazione della storia che cosa succede il giorno stesso c'è la prima rivoluzione russa nel 1905 nascono i soviet che non nascono con la rivoluzione d'ottobre ma nascono allora Lenin che beato lui stava a Ginevra scrive questo regime zarista che si fa umiliare così non può più esistere da perfetto russo allora lo zar si salva con un colpo elettorale durerà poco durante un'altra semi sconfitta che la Russia allora zarista stava subendo nella prima guerra mondiale la popolazione si ribella ancora perché non tollera l'umiliazione ecco le sanzioni in Russia se sono economiche hanno un effetto relativo se la Russia perde la guerra e viene umiliata e l'obiettivo degli americani non a caso è questo ci può essere un cambio di regime perché vivono in maniera un po' diversa dalla nostra grazie mille Dario molto chiaro ci sono altre domande nel pubblico vedo qualcuno che si alza ma non so se per una domanda per una domanda sì certo venga arrivo no no ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io prego prego venga qui buonasera grazie di questa preziosa occasione che ci date ho avuto domande una per Dotti e l'altra per Dario come potremmo gestire la situazione è uscita poco questa dimensione secondo me come potremmo gestire questa situazione che è un dato di fatto una guerra nella quale ci siamo tutti dentro in un modo o nell'altro là si sta combattendo nel peggiore dei modi probabilmente fatta esclusione per le bombe atomiche insomma ma quasi ci siamo e secondo una declinazione più pacifista e dall'altra domanda dall'altro lato invece la domanda è invece fin dove possiamo spingerci nel continuare questa lotta contro la Russia in un qualche modo per cercare di originare i danni che sta facendo e poi vi chiederai il terzo passaggio e nelle nostre società la guerra dentro di noi quanta attenzione dobbiamo dare all'opportunismo alla propaganda a tutto ciò che sentiamo nelle nostre discussioni nei nostri talk show ecco la propaganda è un altro punto molto interessante partiamo se noi abbiamo ancora 5 minuti chiederei una risposta prima a Guido e poi a Dario io credo che come dicevo prima si chiede a chi è contro la guerra come venirne fuori e la domanda è posta al posto sbagliato io credo come ci si possa star dentro e credo che si possano innescare dei processi di di presa in carico di cura di interventi umanitari di corridoi tutta una serie di di possibili lenimenti alle ferite della guerra purtroppo la guerra è una di quelle cose per il quale vale quel bellissimo verso del poeta Robert Frost the best way out is always through il miglior modo per venirne fuori è sempre quello di passarci in mezzo ecco l'importante credo sia il come decidiamo di passarci in mezzo Dario quindi su come possiamo uscirne perché non sentivo benissimo una domanda devo dire quindi non ho fin dove possiamo spingerci nel fare cosa diciamo nel cercare di creare sì se ho capito bene visto che siamo dentro in guerra fin dove possiamo arrivare a combattere non so se ho capito bene la domanda sì ok fin dove possiamo arrivare non ne ho alcuna idea perché la guerra è una bestia che sfugge al controllo di chiunque anche di chi l'ha cominciata le guerre sono sempre un piano inclinato quindi cominciano da una parte ma poi la pallina scende e guerre che inizialmente erano puramente embrionali poi diventano tutt'altro con l'altro le guerre hanno fasi molto diverse noi abbiamo un'idea della guerra molto mediatica io in questi giorni purtroppo per voi la seguo quotidianamente ma le guerre esistono anche quando diventano a bassa intensità Costanza all'inizio citava conflitti che oggi sono totalmente dimenticati e che infuriano comunque dalla Siria allo Yemen o lo Yemen come dir si voglia e per otto anni si è continuato a combattere nel bacino del Donbass ma non se ne interessava mediamente nessuno se non localmente quindi le guerre hanno una capacità di esistere anche quando perdono di nostro interesse così come è impossibile stabilire dove vanno quindi dove noi possiamo arrivare nei momenti in cui si entra e noi siamo dentro una guerra è impossibile dirlo che succede se domani la Russia è un paese molto razionale perché è un paese debole e chi più sei debole più tende a essere razionale mediamente gli americani che sono il paese più forte tendono a essere più irrazionali se no vi spiegate perché ti vanno a cacciare vent'anni in Afghanistan e non c'è nessuna ragione al mondo per esserci finiti fin dall'inizio infatti la Russia quando era molto più potente da adesso alla fine degli anni 70 si caccia a suo modo in Afghanistan questo per dire che cosa la Russia adesso evita di entrare in collisione diretta con la Nato ma se domani per errore per un colpo di coda bombarda un convoglio di armamenti sul quale viaggiano anche membri della Nato che succede può succedere che la Nato risponda militarmente l'Italia secondo l'articolo 5 a quel punto la cui belligerante diventa belligerante punto quindi chiederci dove noi possiamo arrivare e stabilire quasi che tutto dipenda da noi è quasi cantiano come approccio io temo che sia più egheliana la vicenda mettiamola così per complicarci ulteriormente la vita grazie mille a tutti grazie a Guido Dotti grazie a Dario Fabri grazie a Dario grazie al Festival arrivederci grazie a voi grazie ciao Dario buonanotte ci vediamo domani mattina ci vediamo domani ok grazie naturalmente a fratello Guido Dotti e soprattutto vi chiedo un applauso per Costanza Spocci che è giornalista e condottrice di Radio Mondo Radio 3 perché se è qui è proprio un grande grazie da parte nostra perché è stata bravissima questa sera allora giusto due cose prima di darvi la buonanotte se vi va se volete fuori da qui in piazza Duomo c'è il caffè culturale del festival biblico il Dabar con un concerto che inizia tra 5 minuti con Andrea Chimenti ex voce dei Modà per cui insomma per proseguire ancora la serata ma domani mattina riprendiamo presto facciamo un esperimento al quale vi invitiamo alle 7.30 qui al Museo Diocesano della Diocesi di Vicenza tra esegesi e arte nel senso che sono nostri ospiti il direttore del museo Don Francesco Gasparini Alberto Vela biblista per mettere insieme l'arte e la parola sempre riprendendo il fil rouge di quest'anno del libro dell'Apocalisse poi continueremo con la meditazione qui con padre Bernardo Francesco Maria Gianni che è l'abate della comunità di San Miniato al Monte una meditazione sulla fedeltà e poi di nuovo per l'appunto con Dario Fabri e la professoressa Simona Merlo parleremo di Ucraina Russia è il secondo incontro di Geografia delle Fedi c'è ancora qualche posto ma anche con un piglio legato alle chiese ortodosse perché hanno davvero a che fare sulla questione dunque buonanotte buon proseguimento grazie